Sono come di secondo, terzo geni Solivet, santificare intanto, bandi alle gialle su tutto lo schiamamento, almeno questa è la nostra impressione, non vediamo il cappello. Il numero 9, Marco Petti, Marco Petti si è fermato al box, probabilmente lui è uno dei protagonisti del contatto alla seconda variante, con pure alla loggia, è tutto a posto, quindi forse era il contatto della seconda variante con il Marco Petti, ma ha capito che c'era sempre i casi.